Siamo qui nella chiesa dell'Amato delle Grazie, la chiesa dei Cappuccini. Naturalmente ringrazio sempre Fra Luca Bonomo che mi dà la possibilità ogni anno di fare l'apertura di tutto quello che succederà, di tutte le festività religiose. Le festività religiose mi freno un attimo, quali? Infatti voglio iniziare a Fra Luca un cordiale saluto affettuoso da parte mia. Buonasera. Buonasera. E tutto come va? Apriamo stasera con la settina? Sì. Dica quello che vuole. Stamattina abbiamo iniziato la settina alle 7.30 con prima preceduto la messa e con il Santo Rosario alle 7 meno un quarto e poi subito dopo la celebrazione eucaristica alle 7.30 e quest'anno il settenario sarà predicato da Don Filippo Celona, parroco di Santa Lucia ed esperto in mariologia. e iniziamo questo nuovo percorso di nuovo, nuovo per certi versi non, anche perché l'anno precedente abbiamo dovuto adattare e fare in modo che la celebrazione della settina venisse celebrata e quindi abbiamo utilizzato una struttura pubblica quale la scuola, il cortile esterno della scuola per poter permettere a tanta gente che è tanto devoto alla Madonna a partecipare e a continuare la bella tradizione della settina. Ecco, questa interruzione della vita normale, diceva bene all'inizio del 2020 che poi è stata un po' già alla fine del 2019, vi ha portato a un lavoro eccessivo perché sia ai fini sanitari, ai fini numerico delle persone che entravano nelle chiese lei ha dovuto un po' organizzare diversamente e c'è stato un lavoro non di poco conto. Fra Luca, voglio dire. Chiaramente, a parte il discorso della frequenza in chiesa, prima con il lockdown non c'è stato possibile poter celebrare con la gente ma a porte chiuse per dirette streaming e poi a maggio con il nuovo protocollo che la Santa Sede insieme al governo hanno appurato di poter permettere ai fedeli di partecipare ma con tante precauzioni, mascherina, igienizzazione e poi il distanziamento sociale, insomma tante accortezze che chiaramente hanno limitato molte persone però pian piano, ecco, e questo ci ha permesso di rinvigorire di nuovo, di ristabilire anche se in maniera, come dire, graduale la frequenza per cui non potevamo far passare in maniera inosservata la festa della Madonna e siccome il protocollo prevedeva in base al numero, ecco, che la nostra chiesa ha capienza a 112 persone, ma cosa sono 112 persone per un'affluenza così numerosa della settina? All'esterno, ecco, perché all'interno delle chiese era permesso massimo 200 anche se le cattedrali erano molto più grandi ma all'esterno fino a mille persone era possibile e quindi abbiamo dovuto appurare che la scelta più giusta era proprio quello di svolgere la settina all'esterno e quindi permettere a molti di sedersi con il dovuto distanziamento con tutte le disposizioni di sicurezza e quindi questo ci è stato permesso Tutto sommato poi si è svolto abbastanza bene i fedeli hanno avuto lo spazio, hanno avuto le stesse funzioni Diciamo le cose come si fanno Sì, 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 sicuramente Certo, c'è un unico handicap Siamo all'esterno e l'handicap sarebbe non tanto il rumore, il caldo Il caldo, soprattutto il 2 perché la mattina del 2 ci sono le celebrazioni eucaristiche dalle 6 fino alle 10 l'ultima mese alle 10 che poi finisce intorno alle 11, 11 e mezza e chiaramente all'esterno non possiamo garantire la copertura e il fresco La sera magari è più facile però chiaramente la gente nonostante ha dato lezioni veramente di devozione, di serietà e di grande, come dire, spirito di sacrificio ha partecipato lo stesso magari utilizzando cappellini, utilizzando ombrelli per ripararsi dal calore ma hanno partecipato perché hanno grande devozione alla Madonna Grazie 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 Grazie